Ancora una volta super protagonista della gara Maghette Fall, una stagione fantastica per te Maghette? Sì, è una stagione fantastica, non me l'aspettavo una stagione così, però sono contento, devo ringraziare soprattutto lo staff e i miei compagni che mi hanno aiutato tantissimo quest'anno. Oggi che partita è stata? Insomma, visto tutti una supergiana, vittoria strameritata. Sì, è stata una partita bellissima contro una squadra forte che palleggia bene, noi siamo entrati il primo tempo con una cattiveria e abbiamo trovato subito due gol e abbiamo ottenuto il risultato, poi il secondo tempo abbiamo chiuso la partita. Partita gestita benissimo, magari un po' messa in discesa dall'ottimo inizio, però la squadra si è appoggiata su di te, tu hai sfoggiato numeri in serie, hai preso la squadra sulle spalle. Sì, soprattutto dopo i due gol che abbiamo fatto il primo tempo e il secondo tempo siamo entrati, sapevamo già che loro attaccavano a mille per cercare di pareggiare e noi sono rimasto lì su per contropiede e diciamo che è andata bene. Una super stagione per te, questo ti può far pensare a qualcosa? Non so se hai già avuto qualche telefonata, un salto di categoria, ci speri? Diciamo che sono contentissimo per quello che ho fatto quest'anno, ma devo ringraziare la Giana che mi ha aiutato tantissimo, che ha avuto fiducia in me, adesso ho la testa solo per la Giana e vedremo cosa succederà. E quindi la testa è a Trieste adesso? Va subito lì, che partita sarà? Sarà una partita difficile contro una grande squadra, però noi andremo lì perché dobbiamo vincere e andremo lì a provare per vincere. Grazie.